La legge di stabilità che il Parlamento ha approvato poche settimane fa è una legge espansiva che darà una mano per accelerare la crescita dell'economia e la creazione di occupazione. Oggi abbiamo avuto ospite il sottosegretario Pierpaolo Barretta all'Economia e alle Finanze che si è confrontato con i sindacati e le organizzazioni di impresa sulle ricadute anche sul territorio bergamasco di questo importante provvedimento. Le notizie sono complessivamente positive perché la legge aiuterà a rilanciare gli investimenti produttivi delle imprese gli investimenti degli enti locali perché finisce il patto interno di stabilità darà una mano anche alle amministrazioni provinciali e alle città metropolitane che hanno risorse in più rispetto al testo iniziale del disegno di legge e darà una mano anche al lavoro con la proroga degli incentivi per le assunzioni stabili. Siamo in una fase complicata dal punto di vista economico di notevole incertezza proprio per questo noi abbiamo l'esigenza di rafforzare e consolidare la ripresa economica che è iniziata nel 2015 ma è ancora troppo fragile per permetterci di recuperare rapidamente la disoccupazione e le nuove povertà che sono esplose con la crisi economica. Noi stiamo lavorando con le riforme e con la politica economica per rimettere in marcia il Paese. la legge di stabilità 2016 è sicuramente un passo molto importante in questa direzione.